Gentili telespettatori, buona giornata. Ieri mi sono visto la diretta di Giuseppe Conte alle 17.30 che parlava delle sue decisioni, opinioni sulla leadership del movimento, il caso Grillo Conte di questi giorni e mi sono stupito perché in questa conferenza ha trovato anche il modo di schierarsi contro il centrodestra assieme al Partito Democratico. E dopo giorni di polemiche annuncia la sua posizione il Giuseppe non posso presentarmi a un'operazione politica che nasce già all'origine invischiatra tra diffusi timori di abbracciare questa svolta. Effetto per il movimento che mi spinge a parlare chiaro, la mia posizione nasce da un ragionamento politico e da una convinzione personale. Primo mi fa valutare che dopo la grande fase di crescita oggi rischiamo il declino del movimento se non alimentiamo in modo nuovo lo stesso movimento. Pesa anche che la mia convinzione personale è quella di non impegnarmi in un progetto in cui non credo. Questo richiede una grande testa e un cuore. Non posso assumere una decisione se la mia testa mi suggerisce che il percorso è sbagliato. Poi parla, dice, ecco qui arriva il punto del discorso. La sfida politica è molto complessa. Le forze di destra offrono soluzioni facili ma illusorie per affrontare i problemi del paese. Lo abbiamo visto anche in pandemia. Sono prevalse pulsioni antiscientifiche. Si mettevano in discussione pure regole minime di protezione. Davanti a noi abbiamo una opportunità mai offerta al nostro paese. Investimenti e riforme per circa 248 miliardi di euro. Le forze di destra offrono soluzioni facili. Questa dichiarazione è completamente campata per aria. Il centrodestra, cioè Salvini e Meloni, ai tempi del Giuseppi II, quando Conte faceva finta di dialogare col centrodestra, vi ricordate le fantomatiche cabine di regia dove c'erano questi di governo che ascoltavano Meloni, Salvini o i loro emissari. Ascoltavano, facevano finta di ascoltare, stavano pensando i fattacci loro. E poi ok, abbiamo ascoltato, arrivederci. Queste finte cabine di ascolto tra governo e opposizione in realtà non erano nient'altro che una farsa. Non vi ricordate quante volte anche Salvini durante le dichiarazioni di Conte si era avvicinato a Conte dicendogli chiamami così parliamo della scuola, della riapertura dopo Natale e Conte gli rispondeva sì sì ti chiamo io, ti chiamo io. Poi sparito. Ecco, una delle caratteristiche di Conte, da quello che dice anche Beppe Grillo, è proprio che non risponde al telefono, non risponde ai messaggi, non risponde alle email. Le persone che anche voi conoscete, quelle classiche persone che voi gli mandate un messaggio, lo guardano e non rispondono. Ecco, Conte è una di quelle persone lì, avete capito perfettamente, inquadrato il tipo di soggetto. Io ce l'ho perfettamente presente. Pertanto questo è quello che succede. Conte non ha mai ascoltato le centinaia di proposte di Meloni Salvini durante il governo Giuseppi II durante la pandemia. Pertanto lui non può dire che le forze di destra offrono soluzioni facili, ma illusorie. In realtà le proposte del centro-destra lui non le ha mai ascoltate, quindi non sa se sono facili o difficili, illusorie o concrete. Ma lui deve fare la sua campagna elettorale, naturalmente fondata sul nulla, perché queste dichiarazioni sono farlocche. E poi dice, l'abbiamo visto anche in pandemia, sono prevalse pulsioni antiscientifiche, si mettevano in discussione pure regole minime di protezione. Lui sta parlando ovviamente di quando Salvini si toglieva la mascherina, vi ricordate che era andato a un convegno, era una riunione dove c'era anche Bocelli, Sgarbi, ed era proprio in una delle sale del Parlamento dove lui era arrivato senza mascherina e quando i commessi gli hanno detto di mettersi la mascherina lui ha detto di no. Allora gliel'hanno data una, lui non ha voluto lo stesso mettersela. Probabilmente Conte si riferisce a questo, a questi episodi. Certo sono episodi che anch'io mi sono sempre chiesto perché, perché. Questi episodi certo non fanno, non attirano elettori, ecco, e lasciano terreno fertile ai personaggi come Giuseppi per attaccarsi a qualcosa. Con Giorgia Meloni è più difficile trovare queste cose qua, è più difficile, è più facile con Salvini trovare questo genere di cose per criticare. Pertanto io consiglierei a tutti, da Berlusconi, Salvini, Meloni, Lupi, Coraggio Italia e Coraggio di qua e Coraggio di là, di non dare adito, non dare adito alla sinistra di criticare su queste cose, su queste altre cose. Io direi è meglio tenere un comportamento più sobrio, più serio, perché alcune cose non portano da nessuna parte. Se Giorgia Meloni, Salvini, Berlusconi o chi per esso puntano a guidare la nazione, lo dico a Meloni, a Salvini, a Berlusconi, se uno punta a guidare la nazione, a guidare lo Stato, primo ministro, capo del governo della Repubblica italiana, deve avere un comportamento, non dico ineccepibile perché uno può anche scivolare ogni tanto su qualche buccia di banana, però prima di avere comportamenti che possono essere poi criticati dalla sinistra, pensateci, lo sto dicendo a tutti e tre, Meloni, Salvini, Berlusconi. Da adesso in poi, visto che dovrete guidare il Paese, prima di fare, dire lettera o testamento, dire, fare, baciare lettera o testamento, prima di pensare, prima di fare qualcosa, pensateci cento volte, dire questa cosa che sto dicendo, questa cosa che sto facendo, che cosa porta? Mi porta più elettori? Mi porta a perdere elettori? Sono più interessante? Diranno di me che sono più intelligente? Diranno di me che sono più adatto a guidare il Paese? Meno adatto? Ecco, io direi, una persona che, come Salvini, Meloni e Berlusconi che sono a quei livelli, io dico, prima di parlare di qualcosa, di scrivere un post, di fare un'azione, pensateci, perché da adesso in poi la sinistra e i giornali compiacenti non ve ne faranno passare mezza, già non lo facevano prima, adesso che si avvicina il tempo del governo di centrodestra, bisogna comportarsi in un certo modo. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.